ok siamo tornati abbiamo un sacco di frecce forse addosso ecco ci abbiamo pure il creeper ci succederà un'altra volta maledetto creeper sta facendo un buco ci sta scavando la fossa probabilmente allora c'è la spada ma quante spada avevamo? ah questa è quella di legno abbiamo fatto tutto piccone comunque giorno io andrei a cominciare a esplorare credo che giorno abbiamo fatto già un po' di minire ok dai facciamo poi dopo allora dove si ok questo ci serve per fare altra cosa questo lo possiamo il ferro che ci portiamo il legno non ce lo portiamo questo ci portiamo ci portiamo molte cose ok dai andiamo un po' d'avventura cerchiamo qualcosa di interessante andiamo verso nord andiamo verso di là allora ho detto che questa è una penisola si vediamo se c'è nessuno villaggio ah no knock no village closer to i chilometri ok non c'è niente ma mamma mia qua c'è tutto un bosco di queste ah questo è l'albero della gomma questo possiamo farci anche vedi la gomma vediamo se mi ricordo abbiamo ancora le frecce appese in testa possiamo farci anche le torce vedi questa gomma ok andiamo avanti adesso troviamo qualcosa interessante si buttiamo giù un albero per fare che ci prendiamo la legna ci divertiamo a buttare giù l'albero si cioè stiamo lì tutta giornata a buttare albero che divertimento si no tutta giornata allora di cosa c'è se riusciamo a vedere anche dove è caduto il meteorite anche se adesso già sarà freddo però 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 praticamente abbiamo eh troveremo già del materiale possiamo costruire anche un'armatura sto salendo non pirla dopo devo scendere non è caduto con le vicinanze tu dici eh allora abbiamo sentito aspetta lei cosa c'è lì cosa c'è cosa forse è lì in basso a destra sì 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 forse sarà quello della neve lo bianco sì prima passata qua prendiamo una palla avevamo una palla ecco ecco che c'è un clipe lo fame incredibile c'è tutta la la famiglia di scheletri bastardi praticamente tutta la famiglia c'è allora dove devo andare quella parte ormai si vede già non c'è più bianco è tutto sciolto oh cacchio guarda dove è caduto sull'albero praticamente il mezzolito è caduto sull'albero mentre quello della neve praticamente si è sciolto vedete tutto questo è tutto sciolto e non possiamo nemmeno più salire dall'albero lo dovremmo buttarlo giù wow se lo buttiamo giù rimane tutta la roba là sopra quindi sarebbe inutile va bene allora facciamo finta di niente continuiamo si perché sono diciamo è quello della neve quando cade è solido possiamo prendere la roba poi comincia a sciogliersi diventa questa è la giungla la cosa che odio di più guarda dove ho trovato lì un villaggio andiamo mettiamo v dobbiamo attraversarla v no e allora vuol dire che è un villaggio dove lo è normale no 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 non sembra quello di me non no 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 ecco che è l'agio ecco il villaggetto ah no è un villaggio normale un villaggio normale non è un villaggio dei dei coloni la dei normanni allora questo cos'è questo è quello diciamo che ha tutte vedi le cose che abbiamo costruito tutte le cose pronto queste le prendiamo c'è un pestone che ci può servire qua c'è tutta roba qua possiamo prenderla tutta dove la mettiamo però possiamo farci già le armi una pala di cactus slova li derubiamo ci derubiamo tutta la cosa ci derubiamo ci derubiamo tutta la cosa allora dov'è il quello col tetto basso ah vabbè allora abbiamo trovato questo qui e stiamo qui e vediamo tutte le armi tutte belle con tutte le cose che abbiamo trovato chiudiamo quel video e alla prossima da me sempre grande potente ose ciao